Buongiorno a tutti con la rubrica l'intervista ed è un'intervista del tutto particolare, oggi potremmo dire anche domestica perché il direttore editoriale intervista la direzione generale cioè Gigliola Marinelli, c'è ovviamente un motivo, cioè il bellissimo evento Fabriano per l'Emilia che si è svolto giovedì 19 luglio in piazza del comune a Fabriano che aveva una finalità solidale cioè raccogliere fondi per i terremotati dell'Emilia in particolare per la cittadina di San Felice sul Panaro, un grande successo di pubblico, un riscontro anche in termini di raccolta dei fondi, di questo e di altro parliamo con Gigliola Marinelli, ma sono io l'ospite della radio o sei tu? Non l'ho capito bene. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gold, è un piacere, finalmente sei tu che intervisti me. Ecco, ci tenevo ma Gigliola si era sempre sottratta, stavolta non poteva fare a meno di fare questa intervista perché il vero e proprio Deus Ex Machina dell'iniziativa è stata lei, la tenacia di Gigliola ha premiato e direi un grazie soprattutto alla città di Fabriano, ma come vogliamo iniziare l'intervista? Iniziamo con un grazie, io ho inaugurato Radio Gold il 3 di dicembre e da quel giorno la città mi ha abbracciato e per questo devo dire grazie, grazie per l'affetto con cui tutti seguono Radio Gold e l'affetto con cui tutti hanno sposato l'evento del Fabriano per l'Emilia, una città che ha risposto con la solidarietà, con un grande cuore, ma io ne ero certa, una città che amo e che mi ha contraccambiato con un immenso affetto. Senti Gigliola, è nata un'associazione che è in parte una diramazione di Radio Gold proprio perché è una radio che fa musica, una radio che fa intrattenimento, che si occupa di spettacoli, di cultura, di news voleva regalare alla città non solo un qualche cosa legato all'etere ma anche un vero e proprio evento. Ma la cosa curiosa e anche bella, se mi permetti, è stata il vedere che l'iniziativa è stata in gran parte sollecitata. Ecco, come è nata l'idea di realizzare l'evento? Il caso, il caso ha voluto che su internet, su Facebook, fosse lanciato una provocazione organizziamo qualcosa, un concerto per raccogliere fondi per i terremotati. E tu che hai sbirciato su Facebook questa cosa, hai raccolto al volo, la proposta l'hai fatta tua e l'hai restituita appunto alla città. Sì, il caso ha voluto, che tu ricordi bene, eravamo qua a registrare con Sergio Solari l'intervista di Moschè e quando questo ragazzo ha ascoltato il progetto dice sì, voglio farne parte. Quindi il caso ha voluto che ci incontrassimo e che iniziassimo a lavorare tutti insieme. E l'aspetto ulteriormente positivo è stato che la proposta è venuta da un gruppo di giovani, interogenei, senza appartenenze politiche o quantomeno senza uno scopo di tipo politico, ma proprio per la voglia di fare in città e per la città. Per la città, esattamente. Quindi una radio non può prescindere dalle richieste dei giovani, la radio è ascoltata dai giovani, quindi se parliamo di politiche giovanili, se parliamo di interesse per i giovani, dobbiamo anche ascoltare la loro voce. Quindi Radio Gold per questo ha sposato l'evento in maniera totale. Senti Gigliola, i giovani sono il futuro della nostra città, persino retorico dirlo, giovani in difficoltà, giovani inoccupati, giovani disoccupati, giovani in cassa integrazione, giovani con un titolo di studio che non sanno come utilizzare. Anche in questo senso la sfida di Radio Gold nasce, perché nella tua, nella nostra radio, orbitano molti giovani. La gioia, la felicità più grande, entrare in radio la mattina, trovare una relazione di ragazzi che lavorano e che svolgono il loro mestiere, quello per cui hanno studiato. Quindi giornalisti che hanno la possibilità di lavorare e di esprimere con la loro voce il loro pensiero. E anche di sviluppare quelle che sono le loro prerogative, le loro capacità, legate a tematiche. C'è chi sente di più un certo mondo, chi ne sente un altro. E proprio in base alle loro capacità si cerca di distribuire i compiti. Era questa la radio che volevi? La radio fatta dalla gente, Alessandro. Io devo ringraziare Eugenio e Claudio Patassi, perché hanno avuto, sono i miei editori, e hanno avuto veramente fiducia in me. Fiducia in me perché credevo in questa formula di radio. Il mio pensiero era nelle radio libere degli anni 70, io ricordo da bambina, uscivamo da scuola, ci si fermava a Radio Stariomarchia, a Radio 1F, si entrava, si faceva la radio dedica. Si viveva la radio, una radio aperta alla gente. Quindi io credo che lo slogan, la radio la fai tu, sia vincente per Radio Gold. Una radio veramente fatta. Chiunque può bussare alla porta di Radio Gold può dire un qualcosa. E quindi anche un modo per recuperare il senso della comunità e soprattutto della fabrianesità che si è un po' perso negli ultimi tempi. Cosa che avviene anche grazie a un quartier generale, che è appunto la radio, dove si può venire a fare visita, a parlare, a bere un caffè, a lanciare proposte come... Sono venute le scuole, sono venuti i bambini delle scuole, sono venuti i ragazzi dell'oratorio, hanno potuto parlare, andare in onda. Per loro è stata un'emozione grande e lo è stato anche per me, e vedere questa radio con i ragazzi che partecipano. È spettacolare, Alessandro. Bene, dicevamo di Radio Gold, ma dicevamo anche di questa diramazione di Radio Gold, la neonata associazione Fabriano Belleventi, che ha inaugurato, immagino, una serie di iniziative con il botto, come si dice a Fabriano, con questa bella riuscita, proprio nei numeri, iniziativa. Ecco, ma che cosa si propone Fabriano Belleventi? Immagino di continuare a organizzare iniziative. Assolutamente. Fabriano Belleventi vuole, deve, dopo il successo del 19 luglio, continuare su questa strada, proporre alla città degli eventi, abbinare dove possibile anche il riscontro della solidarietà, perché abbiamo visto che la città risponde in pieno a questo, la città ha bisogno anche di un sorriso. Il nostro slogan, il nostro stemma è uno smile che strizza l'occhio e sorride. Io ho visto la mia città sorridere il 19 luglio, le persone in piazza cantavano, è stato un momento di forte emozione, tu mi dicevi un turbamento, sì, salire sul palco della mia città, una città che amo, dove sono cresciuta, e vedere duemila persone, beh sì, il cuore faceva capriole nel petto, è stato un bel turbamento sicuramente. Senti, nell'associazione c'è anche Paolo Notari, che è una figura importante, è un giornalista radiofonico e televisivo, e la professionalità, come tu hai sempre detto, è un altro aspetto da legare alla passione e alla voglia di fare, e forse anche questa è una chiave. Beh, io di Paolo posso dire soltanto che è un grande. Paolo ci ha preso per mano, per noi rappresenta, per la città, innanzitutto un orgoglio radiofonico, non solo, un presentatore RAI, per tutti noi che facciamo radio, è colui il quale è arrivato, in qualche parte, è importante. Quindi lui, la grandezza di Paolo è stato dire, sì, mi abbino a questa radio locale, vi do una mano, sono con voi, ci ha sostenuto, ci ha difeso, nei momenti di difficoltà, veramente è stato un numero uno. Senti, Gigliola, Pupo, Benedicta, Boccoli, Amedeogoria, Michele Pecora e tanti altri, che impressione hanno ricavato della città di Fabriano? Una città dal cuore grande, una città che partecipa, una città che è viva, che va accesa quotidianamente. Bene. Quindi, questo è l'obiettivo di Belleventi, la città. E certo, sono stati raccolti 5.000 euro, che sono stati da te personalmente donati, a chi, spieghiamo bene? Al comune di San Felice, che era rappresentato quella sera, rappresentato da Paolo Bozzoli, il consigliere comunale, il sindaco non è potuto intervenire. Perché ovviamente è impegnato con la durissima ricostruzione. Sai, io non volevo, questa raccolta fondi doveva essere per me finalizzata ha un obiettivo ben preciso. Nel dubbio io ho anche la fortuna di avere una mia speaker, nonché una grande professionista, Patrizia Lange, ingegnere, e quindi ho detto, telefono a Patrizia, è sul posto, mi sa dire, mi sa orientare. Quindi mi ha dato il numero del sindaco Alberto Silvestri, l'ho subito contattato. Che mi dicevi, ti ha risposto praticamente quasi piangendo dall'emozione. commosso perché era la prima chiamata. Sì, sì, sì. Dice, signora scelga pure, perché qui abbiamo tutto da rifare. Tutto da rifare. Senti, Gigliola, sai più o meno dove saranno indirizzati questi 5.000 euro? Saranno indirizzati per l'arredamento di menze scolastiche di una scuola di San Felice sul Panaro. E questo ci fa piacere perché un'altra volta la ribalta, anche se nella sfortuna, i giovani, i giovanissimi, che sono aiutati da Fabriano per un progetto. Abbiamo infatti chiesto un obiettivo che fosse di aiuto ai giovani e ragazzi. Senti, mi dicevi che ti ha colpito quando il sindaco ti ha detto, beh, signora, qui è tutto da ricostruire. Tutto da rifare. Ho pensato anche alla nostra situazione, il nostro sisma. E forse questa cosa, Gigliola, è stata sentita dai fabrenesi perché vissuta. Assolutamente sì. Quindi il cuore della città batteva più forte, perché noi sappiamo benissimo qual è il disagio che un sisma può provocare. E quindi non potevamo esimerci. Sì, dal fare un gemellaggio con San Felice sul Panaro, dove ricordiamo ci sono dei tecnici fabrenesi, dove anche il comune ha mandato, proprio perché ha acquisito un'esperienza nel 97, dei tecnici a visionare la zona. Sì, perché il nostro è un modello di ricostruzione efficace che viene poi anche preso come esempio. E dove insomma si cerca di portare la propria esperienza, la propria competenza. Senti, Gigliola, la radio cosa si propone di fare? Possiamo anticipare qualche progetto, qualche idea? Certo, è persino scontato dire che visto il successo, e visto il riscontro di pubblico, che tu tasti giorno per giorno, si tratta soprattutto di continuare. Ma ci sono anche progetti in cantiere? Quali sono le tue intenzioni? Non è un periodo nel quale la radio sta ferma, perché durante l'estate ancora si continua, però immagino che da autunno, insomma, si ripartirà con nuova carica. A settembre noi partiremo con il nuovo palinzesto di Radio Gold, con le nuove programmazioni, ci saranno novità a livello di programmazione, di nuove iniziative della radio, non bisogna fermarsi. Dico, stiamo crescendo, dobbiamo ancora crescere, di strada avanti ne abbiamo multa, però noi crediamo nella radio del territorio. Sì, ecco. Quindi io tutelerò, in maniera più assoluta, il nostro territorio, che merita di avere una voce. Voglio che Radio Gold sia la voce della città, e del comprensorio. Perché in effetti la carta vincente è risultata proprio questa, una radio che è fortemente radicata nel luogo, nel comprensorio, perché ovviamente non c'è solo Fabriano, abbiamo un seguito anche nelle frazioni, che sono moltissime, sono venuti ospiti non solo di Fabriano, ma forse il mezzo di comunicazione che mancava nella città da un punto di vista proprio dialogico, era quello di far parlare alla gente, come avveniva, no? Giuliolla, negli anni 70, dove tutti nel mondo delle radio libere che proliferavano avevano voce. Noi non siamo un network, siamo una radio locale. E io ne vado fiera di essere una radio locale, perché c'è quel contatto umano che perdi poi amplificando il tuo raggio d'azione, lo perdi assolutamente. Ci avevano dato tre mesi di vita, ne abbiamo superati sei, egregiamente, una radio che ha voluto mantenere la sua libertà, e tu sai benissimo quanto ho protetto la radio nel periodo delle elezioni amministrative, perché era molto semplice poter schierare la radio da qualche parte, ho voluto fortemente mantenere una radio libera. Senti, a questo proposito ti interrompo. La politica fa parte della vita, inevitabilmente, ma è anche l'aspetto più difficile da gestire della vita cittadina? Sì, radiofonicamente sì. Anche perché, non so se fortunatamente o sfortunatamente, il battesimo del fuoco di Radio Gold si è avuto durante una campagna elettorale. Durante una campagna elettorale è stato difficile dire anche no, tu non puoi venire perché sei in lista, perché non puoi parlare, però... Proprio perché, l'hai detto sin dall'inizio, questa sarà una radio super partes. Super partes, nella maniera... Noi non dobbiamo fortunatamente ringraziare nessuno, se non il sacrificio personale quotidiano degli editori, di Claudio Eugenio Patassi. E dei cittadini che ovviamente ci ascoltano e quindi ci premiano e in un certo modo ci sollecitano anche ad andare avanti. Senti, una cosa curiosa, capita delle volte che in radio arrivino delle telefonate e mi sembra, forse può sembrare banale, ma non lo è affatto secondo me, che le telefonate più interessanti siano quelle di persone che non hanno magari niente da dire, però che vogliono una compagnia e si intrattengono con gli speaker quando ci sono le canzoni per parlare. È capitato con anziani, con persone anche più giovani, cioè la telefonata per avere qualcuno con cui parlare. A parte che tutti, secondo me, hanno qualcosa da dire. Lo speaker che riceve la telefonata il mattino, soprattutto delle persone anziane, persone sole, che vedono nella radio una compagnia, siamo ritornati alla chiamata in radio, sia per la radiodedica, tutto ciò che faceva la fortuna delle radio libere degli anni 70. Perché la televisione è più asettica, la radio la riconosci di più e poi attraverso la telefonata puoi interagire direttamente con chi parla. Certo, certo. Quindi è fantastico sentire queste telefonate, la gioia delle persone che ti chiamano. Dice, finalmente posso chiamare il radio. E possono, sì, interagire, dire la loro, magari fare una proposta o semplicemente dire che cosa cucineranno per il pranzo. L'ho trovata una cosa molto simpatica, ma anche veramente interattiva, un po' come succede a notte. I giovani interagiscono con Facebook, attraverso i social network, gli anziani chiamano. Con la telefonata. Senti, Gigliola, questa iniziativa è stata importante, ha lanciato definitivamente la radio e tra l'altro la radio è in filo di diffusione anche allo chalet. Allo chalet, sì. Dove Eugenio Patassi sta gestendo la stagione e dove c'è un altro punto d'incontro. Importante, importante per i ragazzi, il sottofondo musicale, la colonna sonora Radio Gold. Sì. E per noi è un altro orgoglio lo chalet Fabriano. Perché Fabriano ha bisogno, soprattutto per i più giovani, di luoghi d'incontro e lo chalet è il luogo principe. Qualcuno l'ha definita sulla stampa il luogo della movida fabrianese. Un luogo di incontro storico per tutti noi chi non ha ricordi allo chalet della nostra gioventù. Spettacolare vedere i ragazzi tutti insieme, sani, belli, una bella gioventù, una Fabriano bella. E una Fabriano affollata allo chalet, soprattutto durante gli europei. Gli europei, sì, le partite con il maxi schermo. Le partite che sono state eseguite un po' a mo' di curva nord, di curva sud, che si voglia. Bene, Gigliola, ti ho chiesto all'inizio come vogliamo inaugurare l'intervista. Non posso esimermi dal chiederti come vogliamo chiuderla, questa intervista. Avrò dimenticato senz'altro delle cose da dire. Se hai da aggiungerle, ovviamente, puoi farlo. Io aggiungo che Radio Gold si propone e si terrà per mano con l'associazione Fabriano Belleventi per continuare su questa strada. Promettiamo veramente alla città, grandi cose, di essere presenti e di continuare questo percorso insieme. Questo è quello che mi posso augurare con il mio staff che ringrazio. Devo ringraziare tutti gli speaker, i miei collaboratori, i tecnici, gli amici, tutti voi, te e Alessandro, che veramente avete sostenuto e creduto nel progetto di Radio Gold. Quindi lo diciamo a tutti i propri obiettivi. Se avete qualche proposta, se avete qualche idea, se volete parlare, se volete incavolarvi, se volete invece sottolineare qualcosa di positivo che magari viene trascurato, Viale Serafini 69... La porta di Radio Gold è sempre aperta. La porta è sempre aperta. Perché la radio la fate voi. Perché la radio la fate voi e questo è lo slogan di Radio Gold. Se trovate chiuso è solo perché stiamo registrando. Esatto. Ma dopo un minuto o al massimo cinque minuti la porta viene aperta. Grazie, grazie a Gigliola Marinelli, direttore generale, lupus in favola perché ci sono anch'io qui, di Radio Gold. Continuate a seguirci così numerosi, anche durante l'estate, perché noi saremo sempre qui con voi.